Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, oggi è cambiata un po', anzi, è cambiata tantissimo la location perché voglio fare un hitting sound perché è un video che mi viene richiesto tante tante volte ma soprattutto da Federica un bacio Fede, ti abbraccio Federica me l'ha chiesto tante volte quindi dato che da poco sono tornata mangeremo insieme vi dirò, non mangerò cose grassosissime primo perché di solito non ne mangio e poi perché non mi sento tanto bene non so come vi vedete perché avanti ho una piccola lucina che ho comprato da poco per fare i selfie con le luci che sono uscite che si mettono avanti al telefono e vi aiutano a fare un selfie più luminoso così quindi mi vedete con quella luce quindi non so come possiate vedermi spero comunque bene anche se io mi vedo un po' scura adesso proviamo pure a vediamo un po' come la dobbiamo mettere magari così io ho tolto l'orologio perché faceva un po' di fastidio trova un po' fastidio allora come potete vedere mi trovo in cucina questa diciamo è la parete della cucina perciò ho una visuale un po' diversa allora prima di partire col video vi voglio far vedere delle scarpine che mi sono arrivate da un sito che si chiama Yoins adesso vi faccio vedere questo sito che si chiama Yoins è un sito che vende scarpe, robe varie e si scrive così io ho scelto un paio di scarpe ho un decisino top una cosa del genere allora adesso vi faccio vedere una scarpa in questione è questa è fatta così è tipo un ankle boots è carina però vicino al piede diciamo che ancora non l'ho usata per uscire però è carina e così qui c'è il ancora non l'ho usata e qui c'è il tacco vedete e qua questa specie di di cinghia odorano di scarpa odorano di scarpa proprio di sapete quell'odore di scarpe strane e però sono fatte bene qui hanno una molla la cinghia e trovate tutto giù nell'info box io adesso vi lascio il sito che si chiama Yoins ho scelto queste ah ma la cosa bella non ve l'ho detto cosa che mi è piaciuta tanto è che queste scarpe sono arrivate nello scatolo io ho scelto un 37 quindi magari se scegliete il numero di scarpe cioè se scegliete le scarpe scegliete un numero in più al vostro le scarpe una era contenuta in questo sacchetto e l'altra in un altro sacchetto simile vedete e mi piace questa busta perché può essere anche riutilizzata per altre cose non per forza per le scarpe oppure per le scarpe tipo quando le mettete in valigia altra cosa che mi è arrivata sempre da Yoins e già ho indossato da sotto a questa camicia un sabato e questo bellissimo reggisino scelto S ovviamente credevo che arrivasse anche il pezzo di sotto invece mi è arrivato solo invece è solo questo comunque costava 5 dollari una cosa del genere è bellissimo cioè è così e da dietro si attacca in questa maniera aspettate si attacca così e questo già l'ho usato e mi è piaciuto davvero tanto quindi il sito in questione è Yoins e vi mando un bacio in mezzo a tutti quanti e grazie che vi state iscrivendo al mio canale nuovo ne sono davvero davvero contenta iscrivetevi e seguitemi perché sto caricando video e piano piano allora oggi che mangerò a parte che qui ho il mio tè che adesso lo verserò allora guardate cosa mi sono preparata questa brecchina ci ho messo questa specie di brecchina dolce ci ho messo un po' di formaggio e l'ho fatto sciogliere al microonde scotta un poco sono tanto cose croccantose perché ho fatto il viso in bianco con il formaggio a scaglie sopra così aspettate adesso mischiamo vediamo come viene in pratica qua c'è il formaggio grattugiata un po' molle lo so ragazzi sembro un po' una malata è solo che non mi sento tanto bene poi a me di alta piace mi scocciavo di grattugiallo allora l'ho tagliato con il cordello a pezzetti mi piace anche la pasta in bianco con il formaggio grattugiato sopra il pepe stavo pensando di metterci un po' di pepe aspettate aspettate lo vado a prendere pepe nero mi piace tantissimo infatti mi stavo dicendo mi piace molto mi piace molto mangiare pasta in bianco con formaggio grattugiato sopra e pepe nero è buono oppure pasta integrale però sempre in bianco con formaggio grattugiato sopra e pepe nero però mi piace comunque guardate ho messo quattro quintali di pepe più buono mi piace troppo il pepe nero proprio mamma mia che certo sto facendo un it in sound adesso Federica e a tutti quelli ai cui piacciono il it in sound staranno dicendo wow mamma mia ma che video è nel senso mangi cibo per malati però avevo ho avuto il tempo per fare il video ora ho beccato un pezzetto con il formaggio grattugiato con il cuore con il cuore con il cuore comunque un giorno tipo che non mi vatti ma io di solito ci metto anche il limone il limone strizzato sopra spremuto sopra solo che adesso non lo tenevo mi scocciavo di andarlo a prendere perché ho l'albero fuori l'albero di limone solo che scocciavo perché piove allora non ce l'ho messo però di solito metto anche il limone mangio grattugiato e pepe comunque vedi sto cucchiaio è tutto storto non ci sono ce la faccio a più ragazzi scusate lo lascio metto nel mio bicchiere di gloria ci tengo tanto a questo bicchiere perchè l'ho preso in buia presi questo è anche una tazza sempre con gloria perchè io sono gloria e quando mangio o bevo mi sento gloria invece il mio fidanzato io mi presi la tazza con gloria e il mio fidanzato gli presi la tazza con un dinosauro sopra non mi ricordo chi perchè dato che il mio fidanzato è alto è molto alto allora ogni tanto lo sfotto che sembra un dinosauro e io ho comprato quella tazza questo tè mi piace tantissimo questo tè qui e mi piace anche il tè della santal se non sbaglio mentre il tè san beneditto non mi piace proprio ogni volta che lo bevo per continuare cibo malati proprio mangio una fetta biscottata magari faccio un po' di rumore ma Grazie a tutti Questi pizzi Queste punte Le fette biscottate Quando ingoiate Rimagano pizzate qua Sento un gatto miagolare Un po' L'altra volta C'era un gattino piccolo piccolo E secondo me la mamma L'aveva abbandonato Perché era cieco da un occhio Mi sembra che Non è che era cieco È che aveva un occhio Chiuso così Allora stava nascosto dietro delle piante Allora io gli diedi Io lo vedi E Salì di nuovo a casa mia E gli portai dei formaggini Delle sottilette E lui se le mangiava Allora ogni volta che mi Vedeva passare Mi accolava Pianceva così Io lo capivo E gli davo a mangiare bene Però È da un po' di giorni che non l'ho visto O avrà cambiato posto Non lo so Tra l'altro devo riniziare la palestra Siamo a Metà ottobre Ancora non è iniziato la palestra Cioè guardate Mangio queste brioche Che sono Fatte proprio Con zero schifezze E E dentro E dentro in pratica Vedete non c'è nulla E le fa il panificio Queste qua Stiamo trovando una casetta Piccola Però non proprio striminzita Che abbia almeno Una camera da letto Un'angolo cattura Il salone È un bagno Perché Il salone Lo deve avere È una bella camera da letto E la cucina Non fa niente Che è piccola Perché siamo due di noi Quindi E ovviamente È un bagno Che non deve essere Strimizzito Tutte le case Che troviamo Sono care Oppure Cioè l'affitto È caro Oppure Si trovano Sopra Monte Cristo E Tipo Ci vuole più Tempio Più soldi Di benzina Ci vogliono Che soldi Per l'affitto Sono proprio semplicissime Queste briochine Quale fa il panificio Quindi non è che C'hanno schifezze Tipo briochine Confezionate E Non sono neanche fritte Non so se da voi Le fanno Però provate Se ne vanno In vicino a voi Le fanno Ragazzi La luce Non è delle migliori Ma ho qui Una lucina Un po' De merda Però È un esperimento Di tomocambio Postazione Vito Come viene Se piace Cioè Mangio direttamente In cucina Invece che Portarmi Cibo In camera mia Perché Perché la mia Casa è divisa Dove sto io È una cosa Poi Si esce da questa porta Qui Qui c'è una porta Apro la porta Esco C'è un corridoio Dove passa anche la mia vicina Di fronte Questa Questa casa Dove sto io adesso C'è scendo Scendo dal gradino Di fronte È la casa Dove sto io adesso Apro la porta Qui in mezzo C'è il corridoio E questa E questa è la porta Delle camere Da letto Quindi è come se fossero Divise Quindi ho detto Ma mangio Nella cucina Direttamente Senza che me lo sacco Sopra E mangiare Poi A me non piace Vabbè che il riso È bianco Che odore di cibo Fa niente Però Io Vi rimando Un bacio Super E ci vediamo Al prossimo video Ciao